Cominciamo per un bel cenone, pastodino e cominciamo antipasto soppressata, provolono, parmigiano, pecorino da tavola, prosciutto specca, ci sono melanzane arrostite, zettine arrostite, pomodoro e poi ci abbiamo le bruschette, questa roba è rossa di montacino, guardate rossa di montacino e poi che sta arrivando, che sta arrivando, poi c'è pure, ecco, il bel ragù con le costine, va di là, che ragù vuoi, grande, e poi c'è pure arghi, arghi, si, wow.